Il parco di Montesole, Marzabotto. Dopo più di 70 anni dall'Icidio nazifascista, un evento per ricordarlo e un incontro per discutere il suo lavoro e costituzione. Siamo qui con Valentina Cuppi, un'organizzatrice della terza edizione del Campeggio nazionale delle Resistenze. Com'è nata l'idea, anche in passato? Dunque, è nato da un incontro nel 2003, mi pare, fra dei ragazzi che abitano qua nei territori vicino a Montesole e dei ragazzi invece di Palermo. Abbiamo deciso di unire due tipi di resistenza, perché per noi il concetto di resistenza non è solamente quello storico, la resistenza storica partigiana chiaramente lo è, ma sono anche diverse forme di lotta, come appunto quella antimafia, che i ragazzi di Radio Out, che sono costituiti nel 2001 in un'associazione che si rifà ai principi di Pepino in passato a Cinisi, hanno voluto fare. Quindi ci siamo uniti, abbiamo voluto collegare idealmente i due luoghi, Montesole e Cinisi, per creare una manifestazione che appunto riuscisse ad avere uniti in una tre giorni, perché di solito sono stati tre giorni, tanti momenti per parlare di lotta antimafia, di quello che è la resistenza partigiana, di quello che è stata, ma anche di tanti altri tipi di battaglia che sono in atto adesso. Abbiamo deciso di organizzare questo incontro, il tema lavoro e Costituzione. È evidente che la Costituzione nasce in questi luoghi, Marzavotto è tristemente noto e siamo convinti che le lotte dei nostri partigiani abbiano contribuito in maniera forte alla determinazione della nostra Costituzione. E parlare oggi di lavoro e di grande attualità, visto il feroce attacco che stiamo vivendo. L'impero romano i nemici erano i barbari, invece nel 1300 era la peste, ora come ora invece lo spredde i derivati. È un linguaggio abbastanza ostico, di solito il giornalista e il giornalismo deve tradurre per tutti quelli che non hanno una grande conoscenza, ad esempio nei confronti dell'economia. Lo sta facendo secondo lei in generale il giornalismo italiano? Poco, perché non si esce dalla logica che questo è il contesto, questo è il contesto indiscutibile. Vengono usati anche dei termini da detti ai lavori, quasi in maniera strumentale per poter non spiegarsi bene. Il problema è molto semplice, noi in questi ultimi anni stiamo dentro un modello di sviluppo, un modello economico che ha consumato troppo nei paesi ricchi, producendo molto meno, e ha rivoltato i suoi debiti sui paesi del terzo mondo e a questo punto questo modello non regge più. O si ritorna a un equilibrio e quindi allora si può ripartire con nuovi consumi, però in un contesto anche di limiti ambientali completamente diverso, oppure ci saranno continue manovre. Noi stiamo facendo manovre, manovre, correzioni, stiamo usando soldi pubblici dalla crisi in poi per salvare banche, banchieri, per la centralità del pareggio di bilancio. Non riusciamo neanche a salvare banche e banchieri. In questo modo ci indebitiamo e ci impoveriamo sempre di più. Quindi secondo lei bisognerebbe ideare nuovamente informazione, giornalismo e resistenza anche adesso e soprattutto adesso? Sì, bisognerebbe parlare in maniera comprensibile alle persone, ma per farlo bisogna avere in testa che ci sono dei coraggio, di dire che ci sono dei responsabili per le crisi o per le situazioni. Invece la tendenza è quella di semplificare il più possibile, semplificare significa banalizzare il più possibile, dare tutta la colpa al contesto immediato e non andare alla ricerca dei veri responsabili. I veri responsabili in questo contesto sono 30 anni di sviluppo liberista, di concetto dell'uomo che lotta contro gli altri uomini per il successo sgomitando, del fatto che i diritti sociali, i diritti collettivi non sono più un valore e le persone non hanno più senso mettersi insieme per costruire insieme una comunità di intenti. Ragionando di costituzione però, come già stato indicato da chi mi ha preceduto, non può che non imbattersi il ragionamento stesso con le tematiche del lavoro. È stato ricordato l'articolo 1 perché il nostro progetto di società, cioè la Costituzione che nel 1948 era il patto sociale della Repubblica da due anni soltanto nata, è proprio fondato sul lavoro. E se venisse da lei invece un piccolo commerciante, visto che lei è segretario generale della Filcams, e le dicesse a causa della pressione fiscale, a causa anche della crisi dei consumi, se io non faccio un po' di nero sono costretto a chiudere, da domani. Cosa risponderebbe? Il sindacalista non può assecondare il mancato rispetto delle leggi perché se questo vale per l'evasione fiscale vale anche per il costo del lavoro in generale che non riguarda solo il piccolo commerciante ma riguarda paradossalmente, perché sono loro che ce lo chiedono di più, soprattutto la grande distribuzione dove i dipendenti, dove le lavoratrici e i lavoratori vivono una condizione di precariato tra le più diffuse nel mercato del lavoro. Noi rispondiamo che le regole vanno rispettate, tutte. Dopodiché il sindacato è sempre stato disponibile attraverso la contrattazione nazionale e di secondo livello, ad esempio attraverso la contrattazione aziendale, a trovare le soluzioni che consentano gradualmente a tutte le aziende di poter trovare gli equilibri necessari per sopravvivere. Lo si è fatto in passato, la realtà è un'altra, la realtà è che tutta l'impresa italiana, da quella piccola a quella grande, si trova impreparata sul fronte della competizione di qualità e allora la cosa più semplice da fare è raschiare il fondo del barile e quindi raschiare il fondo del barile significa pagare meno chi lavora e possibilmente pagare meno le tasse allo Stato. Vedere così mistificato una parte dei nostri diritti e una parte di quel sistema sociale che veniva determinato dalla Costituzione in un modo molto puntuale, preciso, trasversale da quelle 21 donne che hanno scritto parte di quella Costituzione. Qual è il rapporto ora come ora tra giovani, giovani di oggi, e sindacati? Il rapporto di oggi non è un rapporto di ostilità dei giovani, ma dire l'opposto sarebbe dire una cosa non vera nel senso che è evidente che rispetto ai processi che ci sono stati di frammentazione, di scomposizione del lavoro e del precariato come condizione di massa. Rende più complicato da parte di questi giovani guardare il sindacato come soggetto che sia in grado di esprimere una reale loro rappresentanza. però devo dire che nell'esperienza dei movimenti di questa ultima fase e mi riferisco all'ultimo anno penso allo scorso autunno e alle manifestazioni a partire dalla manifestazione del 16 ottobre della FIOM e poi quelle successive si è ricostruito un rapporto positivo e importante si è ricostruito un rapporto positivo e importante che oggi è messo alla prova perché è evidente che anche con quest'autunno si tratta di capire se questo rapporto trova un'evoluzione positiva oltre alle grandi scadenze, alle grandi manifestazioni ma anche nella capacità di elaborazione comune di proposte alternative a quelle che vengono praticate da parte del governo. Il campeggio nazionale delle resistenze sta per concludersi con due brevi concerti attraverso le poesie di Federico hanno portato alla loro testimonianza anche i ragazzi di Nardò in provincia di Lecce uniti per difendere i diritti dei braccianti sfruttati dal lavoro nero e ragazzi dell'associazione Passo Passo che affiancano le persone disabili per garantire loro una futura presenza nella società ad esempio con il progetto Weekend di Autonomia successivamente fatto proprio anche dalle ASL. Xenofobia XXI secolo Multietnia Dovrebbe essere un arricchimento? Dovrebbe essere normale? Come bere un caffè alle 6 e mezza di mattina? Dovrebbe essere accettata e presa acchiappata come una coscienza in più calma e la bufina torna casa La fiero partita